dopo quelle forti, potenti buona sera a tutti oggi siamo qui con arrivederci va bene e siamo in una sfida il collega contro il club best nuova sfida novità sfida attacco proposta da il collega giocata da il collega il best il cadenzio l'hai una fiuna testa perde perde chi vince vince bisogna uscire dal secondo lineo che si vede lì allora chi inizia? fare il dispari e si esce da lì avete capito quando vuoi una zina testa basta si gioca a calcio vai vai uno può capire rando su rando su rando su eh vabbè è niente chi arriva a tre di gol vince tre di gol tre di capo col gruppo in campo in campo l'aiuto la sono dimenticata aiuto l'aiuto l'aiuto nooo ok si esatto e poi uno e no 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 una zero collega uno uno io cosa dobbia essere zero muto ma qua rischiamo anche due zero due due 4 4 4 4 5 6 5 Fatata! Fuori! Porco! No! Di poco! Ma c'ero eh! Un centimera sono stato fatto Devo risuscitare No! Signori, un colpo del collega è arrivato Ma non finirà così No! Fiori! Non finirà così Pallonetto! Non finirà! Signori Due Uno No! È carissimo Ah sì Eh? Eh sì Va bene Eh? Polo! No no! Non ho più il palo! Non ho più il palo! È sé! Eh! Eh! Signore si è fatta, più scarsi di prima, pallonetti! Mi devi ridurlo! Fallo! Fallo però! Devo rinunciare al gol però era faldo prima! Come importa? Si! Madonna che caldo! E allora? Dici? Ho stato! Dici? Un po' dritto con l'aria! Ok! Mi sembra lasciare la mano per mettere la mano! Via! Via! 2 a 2! E si va! Gol di gol! Signori finisce qua? Buona visione agli altri video! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti!